Un piacere essere qui per l'inaugurazione di queste messe a dimora di circa 60 alberi donati sostanzialmente dal Centro Zavatta insieme a PMG, quindi ringraziamo sicuramente entrambi, PMG e Centro Zavatta, ma anche tutti gli sponsor che hanno contribuito con le loro donazioni alla realizzazione di questo progetto nell'ambito di città ad impatto positivo. Nel Parco 25 Aprile, Parco Marecchia conosciuto da tutti i riminesi, abbiamo messo a dimora delle specie autoctone, tra le quali i pioppi, le querce, i pini e aceri campestri, creando così una biodiversità di tutto il parco e aumentando la qualità ambientale di tutta l'area verde. Per noi del Centro Zavatta questa giornata è veramente un motivo di orgoglio, 60 alberi donati alla città come i nostri 60 anni al servizio della città e dei più deboli e più fragili. Grazie. 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 Grazie.